Una dura critica alla giunta Brivio, alle sue ultime scelte da parte del gruppo con la sinistra Cambiare Ecco. Alberto Anghileri, quali sono gli appunti che muovete all'amministrazione comunale? Nei prossimi giorni due iniziative molto forti abbiamo in programma. La prima è una lettra che abbiamo inviato a tutti i consiglieri comunali dei comuni della provincia di Lecco riferita alla scelta fatta dal comune di Lecco sulla gestione dei servizi sociali. Quindi chiediamo a tutti i consiglieri e a tutti i comuni di preoccuparsi di questa vicenda con due motivazioni. Una che è strettamente amministrativa e cioè quanto è deciso dall'amministrazione comunale di Lecco a maggioranza non comporta nessun piano economico, non sappiamo se è la cosa migliore. E secondo la scelta di affidare ad una società a maggioranza privata la gestione dei servizi sociali è una scelta che non condividiamo. C'è forse un'altra cosa che il comune di Lecco si è rifiutato di fare. Poteva come comune capoluogo provare a mettere insieme tutti i comuni da Colico a Lomagna come si è fatto ad esempio con Silea vent'anni fa, un'unica società di tutti i comuni per gestire i servizi sociali. Il comune di Lecco in maniera inspiegabile questa cosa non ha voluto farla. E l'altra iniziativa che cosa riguarda? L'altra iniziativa è un manifesto che andrà alla fissione nei prossimi giorni per la strada della città in cui denunciamo tre risposte che il Partito Democratico e i suoi alleati in giunta hanno dato rispetto al lavoro dignitoso. L'assunzione con la forma della dote comune di impiegati pagando i tre euro e mezzo l'ora. Abbiamo chiesto al comune di stanziare un po' di soldi in più per aumentare questa retribuzione. Ci hanno risposto di no. La seconda riguarda le cooperative che lavorano per il comune di Lecco. Abbiamo chiesto di assegnare più punteggio alle cooperative che applicano i contratti più alti. Ci hanno risposto di no. La terza era un'ordine di legione che riguarda una questione certamente molto più grossa che il comune di Lecco. Il fiscal compact, cioè il pareggio di bilancio. Entro fine anno tutti devono esprimere un parere. Abbiamo detto al comune di Lecco diamo un parere negativo perché questo ha portato a tutti i problemi avuti in Italia in questi anni legati alla socialità. Anche su questo il PD e i suoi alleati ci hanno risposto di no che va bene così. E quindi pubblicamente denunceremo questi fatti della maggioranza che governa il comune. Grazie a tutti.